Massimo otto anni vince la terza edizione di Junior Bacchia of Italia, il talent di Real Time dedicato ai più piccoli pasticceri amatoriali d'Italia e dalla loro passione per il baccheri, la pasticceria da forno. Massima prevalso su Alessandro dodici anni, Sara otto e Chiara nove, anche loro protagonisti della finalissima. Ai mini pasticceri è stato chiesto di proporre il loro cavallo di battaglia, poi, per la prova tecnica, ricreare due torti dei maestri Kname e Carrara. Infine, la prova finale li ha visti riempire la vetrina della loro ipotetica pasticceria con la loro signature Cache. Le prove sono state arbitrate da una simpaticissima Katia Follesa, quindi giudicate dalla giuria composta proprio da Ernst Kname, Clelia Donofrio e dal giovane pasticcere toscano Damiano Carrara, che di fatto hanno deciso il vincitore.Massimo guadagna, oltre al titolo di Il titolo di miglior mini pasticcere amatoriale d'Italia, l'opportunità di raggiungere l'ormai mitico Buddi Valastro, ovvero il boss delle torte, nella sua pasticceria a New York e la possibilità di vivere un'esperienza avventurosa e divertente a Gardaland tre giorni con famiglia a seguito.Al secondo gradino del podio, il siciliano Alessandro, premiato con una commovente lettera del padre pasticcere. Le due ragazze, Sara e Chiara, invece, sono state eliminate prima del round finale.Le dichiarazioni di Massimo sono sempre felice perché la pasticceria porta felicità. Dedico la vittoria alla mamma.Userò sempre questa tuta per fare i dolci con mamma.Le nostre cancelletto videoricette.